Comandante, oggi la cerimonia di consegna della Maltese Falcon, ci può dire qualcosa di questa imbarcazione? Certo, siamo qui da otto mesi, qui a Livorno, a Lusben, abbiamo fatto un refit immenso, la barca è praticamente nuova. Oltre a ciò che vedete adesso qui, quindi verniciatura e esterni, abbiamo aggiunto una tenda a poppa che noi chiamiamo Circus di Poppa. Abbiamo totalmente rifatto gli interni, che non hanno più fibra di carbonio come prima, ma è esclusivamente un gusto molto più classico e lussuoso. Abbiamo rifatto completamente la sala macchina, quindi tutto il sistema di generatore, di energy power, del monitoraggio e della gestione di tutte quante l'elettronica di bordo. Anche la pilot è stata rivista totalmente e tutto il sistema velico nel suo sistema di base, quindi pompe, motori, freni, ingranaggi. La barca è praticamente ora quasi nuova. Questo è stato un lavoro richiesto da un nuovo proprietario e ci può dire qualcosa sui costi? Abbiamo avuto dei costi alti, ancora non possiamo definire con precisione l'ammontare, ma è comunque una barca lunga 90 metri ed è un'icona dello yachting, quindi qualsiasi cosa che è stato speso qui ne è valsa la pena. Per quanto riguarda la proprietà, la proprietà è nuova da circa 12 mesi, la società che controlla la proprietà della barca ha focalizzato la sua attenzione sia sul charter, perché questo è un business, è un'attività, non è una barca di piacere, ma soprattutto e principalmente altro, che significa che noi abbiamo avuto nell'ultima stagione trascorsa, fino a settembre, perché siamo qui da fine settembre, abbiamo avuto a bordo bambini autistici, ragazzi della Special Olympic Team in Malta, li avremo tra sei settimane in Grecia e continueremo ad avere questo tipo di attività dovunque noi andremo, chiaramente pianificandole prima, è qualcosa che la società armatrice ha posto come condizione essenziale, perché oltre all'attività vuole rendersi utile nel sociale. Ecco, lascerà Livorno, ci ha detto già qualche tappa, ci puoi parlare della stagione? Principalmente in Francia adesso, poi Grecia, Malta, poi Grecia, poi di nuovo Sardegna, Corsica, Francia, Spagna, tutto il Mediterraneo, ma a novembre partiremo per i Caraibi, dove faremo la stagione invernale lì, una stagione focalizzata principalmente al charter, perché la barca è particolarmente conosciuta e ammirata negli Stati Uniti e i nostri clienti sono principalmente americani. Un'ultima domanda, quante persone servono per comandare una barca del genere? 18 persone. Ognuno con un ruolo diverso? Ognuno con un ruolo e con una capacità specifica diversa. Abbiamo persone che lavorano sugli alberi, persone che gestiscono gli interni, tre persone in sala macchina, tre nella pilot, due cuochi, massaggiatrice, marinai che fanno anche da pittori, falegname e quant'altro, la barca è in continuo movimento.